Allora, ma la Fultri è arrivata? No, non è arrivata. C'è una linea in basso con la procuratoria, esce le viali. Esce le viali in un'acqua. No, qua ci sono, qua ci sono, qua ci sono, qua ci sono, qua ci sono. No, qua ci sono, qua ci sono, qua ci sono. No, qua ci sono, qua ci sono, qua ci sono, qua ci sono. No, qua ci sono.